Iniziare al meglio la seconda parte di stagione per cercare di raggiungere quanto prima i propri obiettivi. Assisi, Subasio e Ponte Valleceppi vanno a caccia dei tre punti nella prima giornata del girone di ritorno del campionato di eccellenza regionale, nonché ultima del 2019. I padroni di casa, reduci da due sconfitte consecutive, hanno bisogno di un successo per cercare di mettere la testa fuori dalla zona play-out. I perugini invece dopo il K.O. esterno contro lo Spoleto cercano di puntellare la propria posizione di classifica. Ed allontanarsi il più possibile dalla zona calda al di sotto di loro. Arbitro dell'incontro è Saverio Anelli di Terni, codiuvato dagli assistenti Servilli e Quaranta. Bellissimo gesto nell'immediato per partita, dove le due squadre sono scese in campo con la maglia degli amici di Cate. Associazione no profit nata per aiutare la piccola Caterina, bimba di Gubbio di otto anni, affetta da artrofia muscolare spinale. La cronaca. All'undicesimo bel lancio dalle retrovie di Bernardini. Mancinelli che pesca fondi, bravo a puntare l'uomo ad accentrarsi prima di concludere. Tentativo però smorsato sul nascere e che trova attento Caterinelli che blocca a terra senza problemi. La risposta dell'assisi su base o arriva al ventiduesimo. Insidioso cross dalla destra. Nessuno trova la deviazione, nemmeno Biscarini. Con Mancinelli che per non rischiare nulla appoggia in corner. Ancora locali in avanti alla mezz'ora, bella azione corale sulla destra. Palla in mezzo per Calabretta che ha tutto il tempo per prendere la mira, senza però dare la potenza necessaria. Biscarini attento e smorsa in tranquillità. Alla trentasesimo il Ponte Valleceppi prova a sfruttare un calcio piazzato. De Iulis la batte, Mancinelli è bravo ad inserirsi e ad anticipare tutti. Meno bravo invece per quanto riguarda la mira, con la sfera che finisce sul fondo. E questa è l'ultima occasione dei primi 45 minuti. Con le riprese di Giorgio Polli passiamo quindi alle immagini del secondo tempo. Alla decimo l'assisi su base o si rende pericolosissima sfiorando il gol. Azione tutta di prima e palla stirati, che senza pensarci due volte ci prova dal limite, con la sfera che lambisce il palo e finisce di un nulla sul fondo, alla destra di Biscarini. I padroni di casa legittimano la mole di gioco costruita, portandosi in vantaggio al quarto d'ora. Sardeglia mette in mezzo, Montanucci anticipa tutti e devia sul secondo palo, battendo Biscarini. Assisi su base o uno, Ponte Valle ceppi zero. La risposta degli ospiti non si fa attendere e al ventiduesimo Mancinelli prova a pescare il jolly della distanza, direttamente da calcio di punizione. Il tentativo del numero due si spegne però non di molto sul fondo. Al ventottesimo Francione anticipa tutti e cerca la via del gol sul calcio d'angolo, ma la sua deviazione di testa non trova lo specchio della porta. Ancora padroni di casa pericolosissima al trentaduesimo, quando Biscarini è costretto agli straordinari sulla deviazione sotto misura di Mariano, subentrato in campo da pochi minuti. Al trentasettesimo Stirati si accentra e entra in area venendo però messo giù da un avversario. Per l'arbitro non c'è nessun dubbio con il calcio di rigore che viene concesso agli locali. Dal dischetto si presenta Mastrantonio, che batte Biscarini per il gol del raddoppio. Assisi su base o due, Ponte Valle ceppi zero. Nel finale di gara i padroni di casa sfiorano anche il 3-0, ma Biscarini è di nuovo monumentale e Sardeglia si vede respingere sulla linea di porta il suo tentativo di testa a botta sicura. Sarà questa l'ultima occasione del match. Dopo cinque minuti di recupero arriva il triplice fisto finale al comunale degli ulivi di Assisi. Assisi su base o batte Ponte Valle ceppi due a zero. Mister, un primo tempo di sostanziale equilibrio, poi però nel secondo tempo o è aumentato il pressing dell'Assisi o siete calati voi? Può essere una delle due cose sicuramente. Bisogna vedere come leggerla. Sicuramente non stiamo attraversando un buon momento. Questo è inutile negarlo. Bisogna essere lucidi nell'ammetterlo. Molto probabilmente anche la sosta viene a pennello. Cercheremo un attimino mantenendo la calma il più possibile di lavorare perché noi tanto bisogna lavorare il più possibile. Ci sono momenti di difficoltà nel campionato. Lo sapevamo, potevamo incontrarli. Questo è uno di quelli. Chi è bravo ne viene fuori. Quindi noi cercheremo di far tutto per poter riemergere perché comunque abbiamo tutto quanto a disposizione per poterlo fare. Da una società ai giocatori importanti. Quindi secondo me sono molto fiducioso in questo. Poi la partita ovviamente, sì, faccio comunque complimenti a loro perché sicuramente ci hanno creduto più di noi. Soprattutto nel secondo tempo. Sono stati più determinati. Emblematico soprattutto il gol del vantaggio. Poi dopo il gol del vantaggio su un campo del genere diventa anche difficile. Gioco molto spezzettato. Quindi è diventato anche difficile ritrovare il ritmo e poter andare magari a cercare qualcosa di pericoloso. Una gran bella prestazione. Non era facile perché abbiamo vissuto ultimamente in periodo di totale cambiamento di giocatori che giocavano sapendo dove erano andare via e quindi, capisci, preparare la partita con giocatori che magari si impegnano e tutto quanto. Faccio i complimenti a quelli che sono stati. Però non era facile. Abbiamo cambiato. Sono arrivati tre giocatori nuovi. Oggi Prete non c'era perché era squalificato ma sia Sardella che è un ottimo centrocampista che è bura che è stato con me per due anni a Bastia insomma hanno fatto una grandissima parma a tutti quanti. Io ho detto che in questi momenti di cambiamento è importante fare i risultati. Poi si arriva tramite il bel gioco bene ma è importante ottenere i risultati perché ti permettono di poter lavorare con uno spirito predisposto in maniera giusta. perché poi dopo insomma sia anche il gol come è venuto ma le azioni più pericolose che abbiamo fatto è il secondo tempo se Biscarini non ci mette la pezza per tre o quattro volte insomma le azioni poi sono venute da la fascia perché con Burra e Stirati onestamente sono due esterni che io vudo l'ho voluto fortemente Nicolas perché nel uno contro uno sia lui che Stirati credo che in questa categoria devono fare la differenza. E quindi siamo contenti siamo fiduciosi credo che l'iniziativa per l'associazione di Caterina sia andata molto bene perché ringrazio tutte le società di Lumbria che hanno aderito a tutte le società di eccellenza e... è... è...